Musica Buona ragazzi, si siamo su King Kong, porca troia Dopo tanto tempo, mi dispiace veramente per non averla continuata prima Ma avevo quel problema di salvataggi e ho dovuto rifarmi un bel po' di storia No vabbè era poca però mi trava un bel po' al culo però Adesso sono di nuovo qua Cercherò di giocare bene questo livello perché è in questo in cui mi sono bloccato quando avevo comprato questo gioco Scusate se non mi vedete ma sono troppo figo Ok, adesso c'è il livello dove bisogna usare King Cats Dove sto mandando? Vai Madonna, com'è che corre? Salta! Wow! Guardate che figo eh, non fa mica schifo Sarà anche del paleolitico sto gioco ma Abbastanza carino Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, ok ci sono Dai vai che masola in cula Aiuto! 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 Devo andarlo a picchiare Sti brutti uccellazzi La ragazza di chi è? C'è quello il problema È di King Cats che si è Che si è venuta a scupare Oh dai! Ma Cristo! Dio canaglia De Dio! Scusate ragazzi la bestemmia ma Cazzo c'è Sti uccellacci di merda Quando provi a salire ti si attaccano al cazzo Ma poi che ci deve fare un uccello Con sta ragazza Vabbè se la mangerà Probabile però vabbè Guardate come si appende Il nostro King Cats Dai raga Credo che sia La sfida finale King Kong contro Uccello del cazzo Aia Lei è scappata eh Allora fuggiamo anche noi no? Prima bella spazzatrice Poi la rutellina Dai vieni Guardate che attacchi Wow My God Quanti uccellazzi Poverine Cioè dai Stiamo sterminando Mezzo mondo Dai vieni Dobbiamo incazzarci Wow Allora ragazzi Non sono mai stato così eccitato Di uccidere gli uccellazzi Del paleolitico Dell'età preistorica Dai vieni Mandami tutti i tuoi I tuoi scagnazzi Che tanto fanno schefa Li uccido a tutti Cioè veramente ragazzi Vi dicevo Non l'ho mai fatta sta Wow Vieni qua Non ci vede un cazzo Non ci vede un cazzo Dai Non vale però Quando si trasforma in Super Saiyan Oh 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 My God Power Ok Gli ho strappato un'ala Perché sono un boss Destro del mouse Ripetutamente ovviamente Perché Sennò qua Va bene Non riesci Solo tenendo premuto No Non ho capito Per correre Devo premere più volte Oh Shit Che vuoi? Oddio com'è che si salta di là? Dio Devo saltar di qua Oh oh Che vuolo che ha fatto Madonna che vuoli che fanno Vieni qua Signorina Ah devo andare di là Sì scusa Ah mi aspetta anche No è bello Lei che aspetta Quello che Lo stupra No Dov'è? Boh ho cliccato Tutti e due tasti No ma non te faccio niente Meglio che faccio Va Gli ha fatto un graffio Eh Maron Quanto sta Stai là Ok Che devo fare qualcosa Cosa? Ma come mai Un gorilla gigante Si innamora di una persona Ma dai Come fanno a A procreare Ma per favore Usa Una cisterna Una cisterna Al posto del pisello Quindi Di conseguenza Lo faccio Con voglia Io vi saluto Mi raccomando Lasciate un Lickets Come dice Dredde Condividete il video Non lo so Cosa volete fare Iscrivervi se non siete iscritti Capisco che magari A qualcuno non può piacere Questo gioco State tranquilli Che ne farò Ne farò altri Per computer Quando avrò finito questo Ce ne ho tanti altri A fare Quindi state tranquilli Che il divertimento Non mancherà mai Poi contando che c'è anche GTA per Playstation 3 Sono apposito Ragazzi ci vediamo Bellissimi ragazzi